Sia lodato Gesù Cristo, desidero invitarvi a prepararvi con noi carmelitani scalzi e con le edizioni OCD alla festa del Santo Natale. Potete partecipare ai nostri esercizi online per l'Avvento che consistono in una mail settimanale con una meditazione sul Vangelo della Domenica per la settimana, un piccolo breve video di presentazione e alcuni testi per ogni giorno, testi molto brevi. Quest'anno abbiamo scelto come Santa Carmelitana che ci accompagnerà una santa che è abbastanza sconosciuta in Italia, Teresa de los Andes, cosiddetta Santa Teresina del Cile. In effetti è una ragazza, è morta molto giovane, è la prima santa del Cile carmelitana scalza. Il tema sarà, uno dei temi principali della sua spiritualità, la gioia divina, radicarsi nella gioia divina. Lei in una lettera molto bella scrive Dio è gioia infinita e lei ci aiuterà a esercitare questo atteggiamento, riconoscere questa gioia divina presente già in mezzo a noi e come viverla a pieno. Se vi scrivete gratuitamente alla pagina esercizi-online.carmel.at potrete partecipare a questi esercizi spirituali d'avvento con i carmelitani scalzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.